difficile descrivere tutto quello che sta accadendo in questo momento siamo correndo trasportati praticamente dalla gente un corteo enorme oltre 100.000 le persone presenti che sono state respinte dalle forze dell'ordine in assetto anti sommossa ma è il culmine della battaglia perché un pacifico corteo si è trasformato praticamente in una guerriglia urbana quando dal centro del corteo sono volate alcune cose probabilmente infiltrati provocatori che hanno comportato così la carica la risposta forte della polizia smisurata rispetto a quella che potrebbe essere l'offesa cannoni ad acqua lancio di lacrimogeni e soprattutto manganellate mazzate che veramente è impossibile descriverla a terra ragazzi ragazze anche anziani una signora un medico abbiamo sentito era sconvolto stravolto volevamo solo manifestare la nostra rabbia il nostro dissenso contro un'azione indegna del governo queste le parole del dottore che non facciamo il nome per motivi di sicurezza in via del corso invece in corso italia scusate c'è stata una carica di alcuni facinorosi e sicuramente non facenti parte del corteo alla sede nazionale della cgl molte le persone e no green pass si sono fermate ma alcuni di questi hanno rotto le imposte una saracinesca sono entrati all'interno c'è stato un tentativo di tenerli calmi ma evidentemente non erano lì per caso queste persone che hanno veramente eh manifestato in maniera violenta e non casuale gente probabilmente è portata lì da qualcuno intenzionalmente per distruggere quella che è stata e che doveva essere una giornata di eh di dissenso di di lotta ma nel senso veramente pacifico del termine noi continuiamo a seguire ma veramente è impossibile stare eh fermi tranquilli perché la carica della polizia è insopportabile stanno cominciando veramente ad avanzare minacciosamente nel limite del possibile voi continuate a seguirci La libertà, libertà, libertà. La libertà, libertà, libertà.